breve tesi così come bignamino per ricapitolare alcuni temi che sono storici prima tesi il capitalismo è un oggetto di elevata astrazione sì il comune una forza di ancor più grande astrazione la nozione di lavoro astratto di marx identificava per la prima volta il motore centrale del capitalismo ovvero la trasformazione del lavoro in equivalente generale nelle introduzioni grundrisse marx chiarisce l'astrazione come metodologia di analisi che emergerà solo dieci anni più tardi nelle pagine capitale come ricordano in molti marx il concetto è un risultato concreto è un risultato è un prodotto del processo di astrazione la realtà capitalistica così come quella rivoluzionaria è una invenzione scrive marx il concreto è concreto perché sintesi di molte determinazioni quindi unità del molteplice per questo nel pensiero si presenta come processo di sintesi come risultato e non come punto di partenza sebbene il concreto sia il punto di partenza effettivo e perciò anche il punto di partenza dell'intuizione l'astrazione sia la tendenza del capitale sia il metodo del marxismo quindi è venuto poi l'operaismo che ha tentato di strappare l'astrazione dal doppio petto del capitalista per ricucirlo addosso alla tuta del proletario l'astrazione sia il movimento del capitale sia il movimento della resistenza adesso negri in marx oltre marx muoveva l'astrazione al centro del metodo della tendenza antagonista come processo di conoscenza collettiva e scriveva il processo dell'astrazione determinato è tutto dentro l'illuminazione collettiva proletaria e quindi un elemento di critica una forma di lotta a me piace pensare che l'idea del comune appunto nasca come progetto di astrazione tesi 2 il capitalismo continua a evolversi in ulteriori astrazioni monetarie tecnologiche ovvero finanziarizzazione governance algoritmica il capitalismo contemporaneo si è evoluto lungo due principali vettori di astrazione l'astrazione monetaria ovvero la finanziarizzazione tutti i prodotti dei future derivatives di cui abbiamo fatto conoscenza recentemente e l'astrazione tecnologica fino agli algoritmi della società della rete di oggi detto in maniera marxiana potremmo dire che la composizione tecnica del lavoro si è evoluta verso l'astrazione algoritmica delle reti digitale governance dei corpi e del lavoro tramite gli algoritmi mentre la composizione del valore verso l'astrazione monetaria dei derivati dei futures oggi nella forma di governance del debito Michael Hart scrisse nell'introduzione ad un libro di Marazzi la finanza come il denaro in generale esprime il valore del lavoro e il valore prodotto dal lavoro ma attraverso mezzi altamente astratti la specificità della finanza in qualche modo sta nel tentativo di rappresentare il valore futuro del lavoro e la sua futura produttività il trading algoritmico o algo trading detto anche high frequency trading è un buon esempio dell'evoluzione combinata di queste due direttrici e misura oggi anche lo stato di disperazione dei capitali di investimento da un altro punto di vista sul terreno delle nuove forme del lavoro cibernetico già alquati nel 63 tentò di cogliere questa evoluzione parallela nel concetto di informazione valorizzante fondendo insieme le nozioni di informazione cibernetica di valore marxiano alquati descrisse una fabbrica cibernetica che in qualche modo simile ai network digitali di oggi era capace di assorbire conoscenze umane trasformare in intelligenza macchinica valore macchinico alimentando così il capitale fisso il capitalismo già allora cominciò a mostrare il profilo di un'intelligenza globale autonoma scriveva alquati in modo profetico nel 63 la cibernetica ricompone globalmente le funzioni dell'operaio complessivo polverizzate nelle micro decisioni individuali il bit salda l'atomo operaio alle cifre del piano lo scriveva nel 63 non oggi già nella fabbrica già nella fabbrica di alquati eravamo quindi nella pancia di una macchina stratta come i taxi di uber che seguono un algoritmo deciso a san francisco di una concrezione di capitale non più fatta di acciaio tesi 3 l'astrazione sia forma del capitalismo cognitivo che del biopotere la nozione di normatività biopolitica fu introdotta da fucco nel suo corso sugli anormali sugli anormali attraverso la modernità fu con identificava una nuova forma di potere che non si esercita più ad esempio attraverso tecniche di repressione della sessualità ma attraverso una produzione positiva di conoscenze intorno alla sessualità fu co distingue così il dominio della legge quello della norma come sappiamo magari non serve ripeterlo più lento dici più lento scusate correva troppo il fatto quindi dicevamo la norma non ha per funzione quella di escludere di respingere diceva fucco al contrario esse sempre legato a una tecnica positiva di intervento di trasformazione una sorta di progetto normativo il vigentesimo secolo è istituito con le discipline e la normalizzazione un tipo di potere che non è legato all'ignoranza anzi è istituito un potere che può funzionare solo grazie alla formazione di un sapere la storia di questa nozione di normalizzazione lunga fucco la prende da canghiem canghiem la presa da kurt golstein con golstein aveva come base di questo potere normativo il cervello era un neurologo non era un filosofo golstein credeva che il potere normativo del cervello si basasse su un potere di astrazione e non è un caso che fucco dedichi il suo primo libro esattamente a una critica di golstein trasformando questo potere di astrazione trasformando questo potere di astrazione una vera e propria epistemologia del potere la biopolitica secondo me nasce ma non è solo secondo me come no politica come controllo del sapere della psiche è il problema che affigge ancora la filosofia della vita oggi la politica dell'astrazione sia il paradigma del biopotere che quello del capitalismo cognitivo andrebbero anch'essi descritti come sfruttamento e alienazione del nostro potere di astrazione di creare di pensare nuove forme di vita tesi 4 un po più artistica l'astrazione è la colonna vertebrale dell'arte e della percezione del sé l'astrazione è anche la forma della sensazione e così del corpo percepito del mondo percepito come del gesto artistico già un secolo fa la scuola della gestalt mostrava come la percezione visiva di una figura si basasse su un potere olistico del cervello di generalizzare punti e linee astratte ovvero su un potere di produrre forme comuni forme collettive la percezione è una sorta di attività pensante ricorda più recentemente la scuola dell'enattivismo della filosofia buddista fino a spinosa e le neuroscienze contemporanee la mente emerge finalmente come sciame una cooperazione astrazione collettiva di singolarità atomi cellule e neuroni l'astrazione deve essere considerata come potere collettivo della mente un potere logico che precede persino il linguaggio la matematica le scienze in generale e il potere di percepire in dettaglio e riconoscere un'emozione di proiettare il sé oltre i suoi limiti di cambiare abitudini per reagire ad un trauma o inventare nuove norme istituzioni per adattarsi alla storia e ovviamente anche il potere di manipolare strumenti e macchine informazioni e dati l'astrazione è radicata nel profondo della vita del tempo delle esenguatari ricordavano come il gesto artistico primordiale dell'uomo i graffiti delle caverne preistoriche non fossero altro che linee astratte l'arte primitiva cominciava con l'astratto ricordava vorringer prima di loro l'eros tesi 5 l'eros è la crudele astrazione del sé non si dà opposizione tra vita e conoscenza ricordava energicamente kanghiem che scriveva nel 65 accettiamo troppo facilmente che esista un fondamentale conflitto tra conoscenza e vita cosicché la loro reciproca avversione porti solo alla distruzione della vita da parte della conoscenza o la derisione della conoscenza da parte della vita ora il conflitto non è tra pensiero e vita nell'uomo ma tra uomo e mondo come ricordava tronti il conflitto è un motore di conoscenza la conoscenza è legata alla lotta conosce veramente chi veramente odia ok però mi sembra di ancora oggi lo scisma millenario tra mente corpo in particolare tra eros e astrazione infesta le interpretazioni corrente del capitale della tecnologia molti filosofi radicali lamentano la diserotizzazione del corpo a causa del lavoro digitale del bombardamento di informazioni di un mediascape ipersessualizzato e come risposta politica suggeriscono l'inseruzione erotica della nuda vita purtroppo se il bipotere è una macchina di astrazione la resistenza non si dà rivendicando più corpo più affetto più libido ma riconquistando il potere di astrazione alienato ovvero la capacità di differenziare biforcare percepire ogni cosa in dettaglio compresi i nostri stessi sentimenti contro la ricezione comune della filosofia desiderante negarastani è notato come Deleza aprisse il suo libro differenza e ripetizione proponendo un legame fondamentale tra differenze e crudeltà la stazione non deve essere intesa come una pulsione contro la vita ma come il gesto violento di ogni essere contro la propria origine contro il proprio terreno e principio identità genere classe specie in spinosa gioia amore segnano sempre il passaggio ad una percezione perfezione superiore scusate ad una superiore complessità l'anatomia dell'uomo è una chiave dell'anatomia della scimmia scriveva marx sempre nell'introduzione grondrisse sebbene possa suonare come una dichiarazione antropocentrica le parole di marx insinuano il passaggio uno stadio postumano forse l'anatomia dell'alieno è forse la chiave dell'anatomia dell'uomo l'ultima tesi dal general intel ad un'intelligenza aliena ovvero il soggetto dell'astrazione il marxismo ha mantenuto spesso una posizione interna alla traduzione antropocentrica umanista in effetti non è difficile riconoscere che il capitalismo è una forza inumana una forza che mira a sfruttare e superare l'umano cercando pure di sostituirlo se non di meno qualsiasi progetto di autonomia del lavoro dovrebbe considerarsi un divenire postumano della stessa classe operaia poiché non c'è alcuna classe originale per la quale provare nostalgia ha scritto alex williams il capitale propriamente pensato è una vasta forza inumana una forza genuinamente aliena in questo è completamente non organico della quale sappiamo troppo poco una nuova investigazione di questa forma deve procedere precisamente come cartografia anti antropomorfica come studio di finanza aliena ovvero di xeno economia forse dovremmo pensare il passaggio dal paradigma del capitalismo cognitivo ad un paradigma che descrive il capitalismo come intelligenza aliena il capitale come vera e propria intelligenza autonoma e collettiva contro la nostra intelligenza autonoma e collettiva in questo l'accelerazionismo marxist recentemente ha proposto un'organizzazione politica all'altezza di questa complessità si tratta di una ripropiazione del capitale fisso e quindi di welfare sotto forma di infrastrutture network spiattaforme istituzioni in tecnologia scienze e conoscenze quindi in tutta la grande produzione di astrazione dell'umanità questa è la mia introduzione a livello di tempo it's a backspace no 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 an